Il comune di Cavriglia si prepara ad ospitare il torneo internazionale del Chianti che si svolgerà nei campi del mini golf a San Cipriano nei giorni di sabato 25 e domenica 26 aprile dove saranno presenti tanti atleti professionisti. Sono già in corso gli allenamenti, abbiamo giocatori da diverse nazioni e da tutta l'Italia. Abbiamo dei giocatori importanti, abbiamo un nazionale austriaco, abbiamo Paolo Porta, è stato campione europeo nel 2012 in Portogallo e comunque abbiamo molti giocatori qualificati da diverse nazioni. L'impianto comunale, inaugurato nel 2006, si trova immerso nel verde in località San Cipriano ed ospiterà anche per questo anno il tradizionale torneo dove gli atleti professionisti dovranno battere il record di 18 colpi. Il torneo inizia domattina, sono quattro giri del campo domani mattina e due domenica mattina e praticamente chi riesce a fare meno colpi, a concludere i giri con meno colpi è il vincitore. Chi può venire a vedere può venire a vedere, tra l'altro sul campo, sull'impianto di mini golf che abbiamo di là si può giocare gratis, quindi possono venire a vedere i campioni e magari provare ad emularli sull'altro campo.